Bene amici, buon primo novembre e ditemi subito nei commenti se siete d'accordo con questa affermazione. Uno dei primi doveri di un buono stato, di un buon governo, se non il primo in assoluto, è aiutare i più fragili. Ecco, parole e musica abusate da destra a sinistra e anche dall'attuale maggioranza, ma proprio in queste ore. Se però dalle parole, beh, passiamo ai fatti, vediamo una discrasia, una distanza abbastanza marcata che poi sfocia in ipocrisia. Oggi parliamo quindi di fine emergenza mai, patti segreti e banchetti dei soliti noti, pensioni di invalidità nel 2022, RDC che magicamente adesso piace a tutti, soprattutto all'agenzia private, reddito di emergenza TER, bonus e le ultime novità dell'Inps. Io sono Mr. Lul, sigla, prima mi raccomando, like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione, se volete aiutare il canale. E adesso, sì, partiamo. Allora, attenti, lo dice il ministro Speranza, siamo ancora in emergenza, pazzesco. La curva peggiora, i dati peggiorano e il governo valuterà, a tempo debito, anche una proroga dello stato emergenziale, per quanto possibile, e anche di alcune misure collegate a questo stato per limitare il diffondersi dell'epidemia. Ok, perché quindi, però, non iniziare concretamente a parlare anche di nuovi aiuti emergenziali, visto che quelli strutturali, in manovra, beh, non sono arrivati. Nel 2022 non c'è nulla per gli invalidi, né parziali né totali, ovviamente parlo di materia, di trattamenti economici. Nulla, 287 puzzosi euro al mese e incremento al milione con i soliti tetti e con dentro al coniu, ancora il coniuge. Tutto abilmente annegato, annacquato in una legge quadro, legge delega, che parla di progetti di vita individuale, progetti di vita autonoma con 287 euro al mese. Ecco, capite che c'è un problema di fondo. Poi, sono 14 mesi che si discute di fondere il REM, reddito di emergenza, con il reddito di cittadinanza, allargando proprio i requisiti di accesso a RDC per raggiungere davvero tutti quei nuclei che sono in difficoltà. E nella manovra, che ve lo dico a fare, non c'è una mazza. Nulla, RDC nel 2022 è lo stesso di prima, fondamentalmente, con correttivi, per carità, assolutamente giusti, sull'aumento dei controlli, a monte, con sanzioni più severe per chi non vada a rispettare le regole e non voglia ricollocarsi, diciamo così, ma non raggiungerà più nuclei bisognosi. E quelle famiglie, dunque, hanno bisogno del REM, un REM che IMSS, su ordini superiori, ritarda pure a pagare. Parlo di quello vecchio, previsto dal sostegno IBIS, che vi ricordo è di maggio. Attenti però perché, magicamente, RDC adesso piace quasi a tutti. Perché? Perché una fetta della torta arriva ai privati, alle agenzie per il lavoro, che avranno degli incentivi per i contratti da loro intermediati, come anche il dirottamento del sussidio ai datori di lavoro che assumano i percettori di RDC, anche con contratti a termine. Non fraintendete se questo porterà davvero lavoro e benefici a tutti strabenvenga, strabenvengano i bonus, gli incentivi, gli sgravi alle aziende che vanno ad assumere. Però bisogna stare attenti e controllare anche qui, perché non si vadano a verificare strutture e furberie anche dal lato imprenditoriale. Perché chi ha memoria sa che è già successo. Il precedente, infatti, delle doti o della garanzia giovani o dell'outplacement, beh, non fa esattamente ben sperare. Un'emergenza poi che continua a mettere in crisi interi settori che sono in ginocchio e i lavoratori di quei settori stagionali, intermittenti, eccetera, ma i bonus, ogni comprensivi, boh, non si parla né di quelli vecchi, alcuni ancora stentano ad arrivare, né tantomeno di nuove indennità. E quindi siamo fermi nel 2021 a 2.400 euro più 1.600 euro. Nel frattempo i navigator scenderanno in piazza perché il loro contratto molto probabilmente non sarà rinnovato, nuovi disoccupati in arrivo. Poi, sull'efficacia di Ampale Navigator, la mia opinione l'ho già espressa varie volte, e in ultimo arriva un IMSS che fagocita, quindi si mangia per decreto, l'IMG, la cassa dei giornalisti, e si accolla di conseguenza i debiti di una gestione sconsiderata di questa cassa degli ultimi decenni, con ripercussioni che sicuramente non si faranno attendere, dove sulle pensioni future, futuribili di tutti, dei giovani, tra virgolette, ma noi intanto, con i migliori, siamo qui a far flanella su quota 102. Detto questo, scusate se mi sono dilungato, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, se la rassegna è stata utile, interessante, fatemelo sapere con un like, l'iscrizione, il campanone, la condivisione dei contenuti, l'abbonamentone se volete aiutare il canale, e noi ci vediamo, come sempre, alla prossima. Grazie da Mr. Lul.